ciao a tutti amici benvenuti su questo mio nuovo video continuiamo la nostra avventura con l'enclave del montana e questi qua forse ci attaccheranno forse no però intanto noi continuiamo facciamo il focus per avere un favore da segretario e io credo che mi prenderò aspetta credo che mi prenderò il new american commonwealth della vera reclaim in più portiamo i nostri a sedare ogni volta la nostra grande sfida sarà conto i messicani semmai non potrò fare ma non credo che lo farò sinceramente e mi ricordo che abbiamo fatto tutto ok continuiamo perché oggi sono le robe passate perché abbiamo fatto la guerra a tutti di sull'amorato e qua tutti per bene le sigma division onestamente ne voglio da un agente speciale johnson però qua perderei effetti quindi più piatti e qua metterò queste cinque divisioni special ops che non sono affatto le cose sono le cose sono le cose da noi anche noi siamo affatto l'hooo lì lì ok le cose sono affatto l'hooo per la lì 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 Sì, ne ho vanno? Oh, tu hai scato? Ehi, maron! Dai! Vad donna! Vanno? Vad donna! Wow è stato veloce e indovore non so cosa sia successo quindi io vi attacco secondo me è crasha di nuovo non 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 si può giocare così però quindi che facciamo? ci grattiamo i coglioni? non ho capito allora dopo un mese di guerra sono uscito a sconfiggerli precocemente nonostante i crash di mia madre facciamo The Quick Reservation, santo cielo benedetto sperando che non crashi anche qua perché sennò devo dire per forza addio proviamo secondo me crashi anche qua se crashi anche qua sembra che non crashi qua solamente quel Luminators mi crashava ma perché sta stanzata? non si so non capirò mai madonna pappet subito allora facciamo così fermo io mo prendo tutto conquisto tutto e faccio tutto eh? vabbè non lo mi ricordo io faccio tutto pappet e mi mantengo determinate determinate situazioni così potrò concentrarmi così potrò concentrarmi completamente sulla Washington Brotherhood e terminare qua probabilmente la serie perché se mi crasha quel Luminators e cazzo mi può crasha quello o altre cose e saremmo fottuti siamo alla fine amici miei stiamo giungendo alla fine e abbiamo i Venti Bird Schematics che però sono arrivati un po' tardi grazie però non fa niente il nostro obiettivo è chiaro ho fatto delle decisioni drastiche ho preferito rilasciare pappet per ne avere meno problemi e guardate quanta gente mi hanno dato in più cioè tutta questa gente adesso mi servirà per attaccare la Washington Brotherhood e serve per forza fare per forza così e niente io sono contentissimo di aver portato questa serie sono contentissimo di aver fatto del mio meglio ma come ora l'obiettivo è chiaro distrugge il nemico una volta per tutte distruggendo la Washington Brotherhood avremo una potenza tale da poter poi contrastare credo qualsiasi nemico abbiamo un esercito forte io credo che perderà malamente la New California se vince sarò molto soppreso ma in questo frangente con New Vegas che non viene attaccata è sembra un paradiso New Canada in questo modo più i nostri cuscinetti qua io credo che uno scontro potrebbe essere al massimo tra noi contro questa fazione di cui non dico il nome perché non lo so dire e lo direi una chiavica già so parlare benissimo e quindi amici ci siamo siamo prossimi alla guerra signori all'attacco sperando che non crash ecco che mi sono scordato che potevo mettere potevo mettere i wanna mingles non va niente noi siamo più forti siamo più forti però non dobbiamo essere teste di cazzo guarda quanti morti qua tu uscidatene tutti per una volta proprio guardate che maceno fermo un attimo dividiamo i nostri eserciti a metà e continuiamo la nostra avanzata abbiamo il nuclear jet quindi dai niente dai ragazzi dai oh mamma oh mamma è finita qua uè sei rimbambito? forza che facciamo qua ragazzi? ci vettiamo in cumo? forza forza veramente bene bene ...dai che li abbiamo saccati, DAI CAZZO! ok, ok, li stiamo massacrando, condiniamo cos'è tutti i nuovi venti qua ok, con gama, con gama ok, ci siamo ragazzi, ci siamo, ci siamo mi stiamo letteralmente massacrando questo è un totale massacro questa è una distruzione totale della Washington Brotherhood sono stati letteralmente superfatti sembrava un nemico più difficile all'inizio ma adesso vangono meno di zero lui purtroppo è con la New California Pub e che io non voglio attaccarla adesso non ho voglia di portarla, ecco, ok non ho voglia di portarla in verità e quindi credo che la giusta fine sia questa io ho paura di crash di gioco perché mi ha fatto crash troppe volte e io non posso permettermi problemi di questo tipo adesso quindi perdonate ma io non ce la faccio il gioco è diventato stranamente instabile ho paura e non voglio che ci sia un problema cioè non mi chiude nemmeno le cose qua lasciate, lasciate bene bene Dio mio li abbiamo distrutti attenzio attenzio oh 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 in questo anno Washington è una cosa ma governare su questo su questo casino nebbioso è proprio un altro discorso oh che succede? Washington Unclave ecco Alex McCormick morte ai traditori benissimo benissimo spettacolare ragazzi la serie è terminata penso che abbiamo fatto veramente il massimo ci sono veramente poche fazioni in gioco e diciamo che sono molto soddisfatto abbiamo fatto un'ottima campagna abbiamo distrutto il nemico siamo riusciti a a resistere quando dovevamo malamente perdere e quindi sono davvero davvero molto felice io faccio questo ma giusto per farlo per finale sono veramente contento ragazzi abbiamo completato il nostro il nostro focus 3 la serie può finire qua vi ringrazio per averla seguita spero vivamente che vi sia piaciuta ragazzi veramente grazie a tutti il supporto che mi avete dato e noi ci vedremo sui prossimi video e ragazzi grazie mille di nuovo per aver seguito questa fantastica serie grazie grazie a tutti ragazzi ci vediamo ai prossimi video è libertà un Uncli un America un Uncli now and forever for hashtag 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione!